Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Confermata dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria l'accusa di associazione segreta per l'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo coinvolto nel processo vota. Vediamo. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ipotesi accusatoria di associazione segreta gravata dall'avere favorito un'associazione mafiosa a carico dell'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo imputato nel processo vota, processo che sintetizza cinque diverse inchieste che hanno portato alla luce, secondo gli inquirenti, un intero sistema di gestione del mondo del malaffare con contatti e connivenze all'interno della politica. L'ex parlamentare Paolo Romeo, ritenuto l'anima grigia di Reggio, avrebbe fatto parte di una struttura segreta legata alla massoneria che ponendosi al vertice della piramide endranghetista interagiva sistematicamente con politica, istituzioni, mondo imprenditoriale e bancario e condizionava ogni tipo di elezione nella provincia di Reggio. Il Riesame, nei confronti di Romeo, si è pronunciato a seguito del rinvio deciso dalla Corte di Cassazione. Il collegio ha invece accolto il ricorso della difesa dell'ex parlamentare in relazione all'ipotesi di reato di estorsione e danni di un imprenditore intenzionato ad aprire un'attività all'interno del Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, un centro commerciale in cui Romeo aveva svolto il ruolo di consulente per un consorzio di commercianti che vi gestiscono numerosi punti vendita. Secondo l'accusa, la Perla dello Stretto è nella piena disponibilità del potente clan dell'Andrangheta capeggiato dal boss detenuto Giuseppe De Stefano.